Dopo il Racing Podcast dal vivo, dall'autodromo di Imola, che mi invito sempre a recuperare, torno nel Racing Podcast tradizionali per parlare della Superbike. È stato un weekend pieno di eventi motoristici per quanto riguarda il 24 e 25 aprile, in realtà meglio 23 e 24, perché in contemporanea c'erano sia la MotoGP, sia la Superbike, sia ovviamente la Formula 1 di cui avete visto traccia nel video di ieri. Oggi parliamo dalla solita postazione invece della Superbike, che ha priorità rispetto alla MotoGP per un mondiale che vede ancora lo stesso leader del campionato per quanto riguarda il round numero 2 della Superbike, ovvero Alvaro Bautista. C'è però diciamo molto da dire in quello che è successo sul circuito del TT, perché abbiamo visto due volti della stessa gara olandese. Partiamo da quello che è successo al sabato e alla domenica mattina, perché il mattatore è stato uno e uno solo per queste due gare ed è stato ovviamente il cannibale Jonathan Ray, che ha vinto sia la gara del sabato sia la gara della domenica, con appunto una grande, ancora una volta, adattabilità al circuito di Assen, dove peraltro Ray con domenica mattina ha vinto 17 volte, 116 in totale e addirittura 100 con Kawasaki, segno che evidentemente su questa pista era il cannibale l'uomo da battere, a differenza degli altri due grandi contender, ovvero Razgat Dioglio e Bautista, che di fatto hanno limitato i danni. Ancora una volta per quanto riguarda le gare 1 e la gara sprint, i big 3 si sono spartiti il podio al termine comunque di una bella lotta, dove alla fine però il più forte di tutti, almeno in questa pista, è venuto fuori, ovvero appunto il numero 65. Peraltro in gara 1 il podio è stato lo stesso delle altre gare nell'ordine con appunto Ray Bautista e Razgat Dioglio in quest'ordine, discorso diverso va fatto invece per la sprint race, dove appunto Razgat Dioglio scavalca Bautista in seconda posizione. Va detto che in realtà Bautista viene penalizzato per avere eccesso, diciamo, i limiti della pista all'ultima curva, appunto l'ultima chicane, la tripla destra-sinistra-destra che appunto immette sul traguardo del TT. Quello che però è incredibile e clamoroso allo stesso tempo è quello che è successo in gara 2, che di fatto sancisce la fine anticipata della gara. Questo è un grande contatto capitato agli inizi di gara tra Jonathan Ray e Topolo da Razgat Dioglio con Bautista che rischia di essere coinvolto e questa caduta di fatto sancirà con 14 giri dalla fine appunto l'arrivo della gara perché di fatto da lì in poi non ci saranno avversari in più per Alvaro Bautista che appunto vincerà la competizione. Ma questa cosa è un evento clamoroso perché difficilmente vediamo due grandi contender buttarsi fuori a vicenda, in questo caso la dinamica è che in questa curva Razgat Dioglio va a lungo, Ray cerca di infilarsi, Razgat Dioglio rientra, il turco e il nordilandese si prendono e finiscono entrambi per le terre dicendo addio a una lotta con Alvaro Bautista che appunto da lì in poi avrà vita facilissima. Evidentemente io non sono aggiornato su quello che è stato deciso perché questo incidente dal momento in cui ho visto la gara era stato investigato dopo la gara, di certo Razgat Dioglio e Jonathan Ray non se le sono mandate a dire, le immagini che poi hanno proposto dalla regente nazionale della Superbike non erano molto chiare perché si vedeva effettivamente che Toprak è andato largo con Ray che evidentemente poi è entrato trovando lo spazio e poi i due si sono presi. Vedremo se nel prossimo appuntamento della Superbike ci saranno ripercussioni per Jonathan Ray in telecoma che a Max Temporali ha diciamo evinto una responsabilità comunque per il cannibale, però vedremo cosa decideranno i commissari. Se qualcuno dovesse mai vedere questo video, dovesse essere più informato ovviamente mi faccio sapere sotto nei commenti la penalizzazione occorsa eventualmente a uno dei due contendenti. È un incidente che comunque appunto fa diciamo tenere aperto il mondiale da un certo punto di vista in favore di quello che effettivamente poi ha vinto la gara di Assen gara 2 ovvero Alvaro Bautista. È vero che Bautista è stato anche coinvolto nella caduta nel senso che ha dovuto rallentare tanto e quindi ha perso molto tempo, ma questo Ducati e questo Bautista erano evidentemente un pacchetto che tolti due grandi avversari erano evidentemente imbattibili, tanto è vero che Bautista ha vinto con un'eternità di vantaggio su una manipola di gente che effettivamente ha avuto modo di fare i migliori risultati della carriera e il podio è questo che vediamo per quanto riguarda gara 2 della Superbike della domenica pomeriggio vince Alvaro Bautista e sono 19 in carriera per lo spagnolo in Superbike e per lui suona la marcia reale mentre per Jonathan Ray ha suonato Cavs is the Queen. C'è un po' di italiano per la prima volta in questa stagione e lo firma Andrea Locatelli con una buona seconda posizione e primo podio in carriera in Superbike per Iker Lecuona con la Honda, una delle più piacevoli sorprese di questo tipo di stagione. È vero che non ci sono Toprak e non c'è Jonathan Ray ma è evidente come appunto con le cadute di 2 B3 su 3 c'è spazio evidentemente per gli altri contender. Per un campionato nel mondo che adesso andiamo a recuperare con la solita grafica di Wikipedia inglese che vede appunto Bautista primo a 109 punti, secondo Jonathan Ray a 91 Rasgatioglu è quello che appare più indietro nella classifica dei B3 con questo 0 molto pesante molto pesante perché Rasgatioglu non ha mai vinto, ha sempre limitato i danni al netto che la Yamaha al momento deve essere ancora sviluppata e quindi Rasgatioglu parte un pelo indietro rispetto agli altri due contender principali quindi Bautista e Jonathan Ray ma questo 0 diciamo tarpa reali temporaneamente a Rasgatioglu che rimane fermo a 464 punti. Ray e Bautista invece che hanno di fatto vinto con questa 3 gare a testa è ovvio che hanno più punti in carni rispetto al turco e di conseguenza anche lo 0 di Jonathan Ray è evidentemente meno pesante rispetto allo 0 di Rasgatioglu Ray probabilmente avrebbe avuto chance di vincere anche gara 2 dal mio punto di vista e avremmo parlato di un cannibale leader del campionato siamo tornati di fatto al 2019 di conseguenza quindi col duello tra il grande veterano della Ducati ovvero Alvaro Bautista e il grande veterano della Kawasaki ovvero Jonathan Ray e poi dopo appunto col fatto che c'è stata questa grande caduta abbiamo visto grandi risultati risultati che comunque fanno ben sperare anche in generale per tante altre case perché partendo dall'ultima gara più recente quella della domenica la gara 2 ci sono nelle prime 6 posizioni tutte e 5 le case costruttrici perché è vero Honda, Yamaha e Ducati sono sul podio ma dietro abbiamo la BMW con Scott Reading abbiamo la Ducati cliente di Axel Bassani abbiamo evidentemente tante auto tante moto meglio evidentemente che hanno avuto modo di ottenere i migliori milestone di questa carriera non sarà sempre così dalla prossima gara di Estoril che sarà a inizio maggio mi aspetto di rivedere sempre ancora una volta Jonathan Ray, Tavaro Taziooglu e Alvaro Bautista duellare perché oramai abbiamo capito che fin dalla prima gara di Aragon è evidente come siano loro i mattatori di questo campionato e che per gli altri ci siano pochissime chance di podio a meno di cadute clamorose come in questa situazione e passiamo adesso agli altri risultati per quanto riguarda i piloti di casa nostra come di assegnare i vari premi quindi i rider del giorno e anche le delusioni del giorno l'Italia appunto dicevo fa podio con Andrea Locatelli che comunque è ancora una volta dimostrato essere il primo degli altri perché quando va bene fa quarto e l'abbiamo visto anche ad Assen Rinaldi delude e fa ottavo e settimo con un ritiro in gara 1 strepitoso invece ancora una volta Axel Bassani che con una moto privatissima del team motocorsa fa tre gare in zona punti e culmina con una grandiosa sesta posizione altri italiani impegnati abbiamo visto Roberto Tamburini che fa i punti importanti anche qui ad Assen con un quattordicesimo posto in gara 1, un undicesimo in gara 2 c'era ancora una volta Gabriele Luglio impegnato con la BMW del team B-Max Racing che fa un ritiro un ventunesimo e sedicesimo posto e concludiamo con uno dei miei pupigli ovvero Luca Bernardi che corre con una moto inferiore ovvero nel caso del team Barney ma che comunque deve adattarsi ancora a questa superbike e comunque ha fatto la seconda gara a punti su due eventi quattordicesimo posto in gara 2 è vero che molti risultati sono figli del ritiro di Jonathan Ray di Topra Casa Dioglu ma comunque sono risultati che lasciano tanto morale ai piloti passiamo adesso ai rider del giorno per quanto riguarda evidentemente tutto il weekend della superbike sicuramente va premiato Iker Lecuona perché era un pilota che in MotoGP non era un fattore perché correva con la KTM clienti del team Tektrois è arrivato in superbike quest'anno e considerato che in parte la Honda si era trovata molto bene già in passato a DAS ne aveva fatto buoni risultati e infatto anche lui si è adattato molto bene a questa CBR 1000 Fireblade è evidente come questo podio sia il coronamento di questo primo adattamento molto favorevole per il giovane piatto spagnolo dunque terzo posto per lui e primo podio evidentemente in carriera in superbike secondo rider del giorno non può che essere Axel Bassani perché evidentemente è vero che corre con un mezzo inferiore è vero che il ritiro di qui sopra ha condizionato i risultati di vari altri piloti ma comunque ha fatto una bellissima lotta con Scott Redding con Alex Lowes ha perso da entrambi è vero ma comunque ha fatto veramente una grandiosa gara un grandioso weekend in generale anche una volta per la quinta gara a punti consecutiva dunque secondo rider del giorno ad Axel Bassani terzo rider del giorno è il numero 91 Leon Aslam che è turnato nel mondiale superbike The Pocket Rocket è entrato in Kawasaki nel team Pedercini sostituendo Loris Cresson che non era un fattore perché il belga era sempre destinato alle ultime posizioni evidentemente Aslam ci ricorda anche una volta che il talento non si perde mai neanche quasi a 40 anni e appunto che una moto inferiore finisce in zona punti e quando non c'è finito è finito veramente ai margini seggio che comunque evidentemente basta dare un pilota decente al team Pedercini e che comunque i risultati arrivano certo non deve essere il team Pedercini a vincere il campionato nel mondo superbike ma comunque sono risultati importanti quelli di The Pocket Rocket in questa gara di Assen la delusione del giorno in generale del weekend è invece purtroppo l'altro pilota della Ducati e qui passiamo all'altra faccia della medaglia del team Aruba perché se Bautista fa delle cose clamorose in parte ricordando il 2019 quella differenza che Bautista sembra un po' più guardato di testa quantomeno in queste prime due gare non possiamo dire la stessa cosa di Michael Rinaldi che col potenziale della moto che ha deve sicuramente fare come minimo come Aragon gli altri tre sono irraggiungibili e comunque ci aspetta minimo una quarta posizione settimo e ottavo nelle gare sprint e due sono secondo me troppo poco per il potenziale evidentemente del pilota italiano e un ritiro a maggior ragione di conseguenza non è così incredibile secondo me dare la delusione del giorno in generale a Michael Rinaldi per quanto riguarda il weekend in ogni caso c'è tempo e modo secondo me per rifarsi per il pilota di Rimini che avrà gare secondo me più favorevoli per far bene certo però che appunto con il ritiro di Renato Dioglu secondo me Rinaldi poteva e doveva punterà il podio il podio che invece ha centrato Andrea Locatelli peraltro in modo molto meritato questo è il recap per quanto riguarda la Superbike passiamo adesso velocemente alle categorie di contorno quindi Super Sport e Super Sport 300 in Super Sport c'è uno e un solo dominatore come lo scorso anno e non poteva che essere lo svizzero Dominic Gerter doppietta per lui ad asse 95 punti totali sui 100 disponibili è lui il cannibale della Super Sport ex 600 adesso è nuova Super Sport per via delle introduzioni di Triumph Ducati e la nuova MVA questa ma la Yamaha 600 è ancora la moto da battere e per Gerter suona per due volte il Salmo Svizzero in gara 2 vince Gerter secondo è Lorenzo Baldassarri che si riscatta da una caduta clamorosa in gara 1 e di fatto rimane secondo in campionato e poi c'è ancora una volta il podio per Gianonco pilota Kawasaki del team Puccetti che è sempre stato diciamo un pilota di testa in questa stagione purtroppo ha pagato delle cadute di troppo e è un pilota che secondo me può dare tanto fastidio anche in ottica futura il pilota turco è tanto tanto migliorato per quanto riguarda invece gara 1 abbiamo il primo podio della carriera in Supersport per Glenn Van Stralen per una doppietta Yamaha pilota olandese di casa Van Stralen che corre con il team di EAB Van Stralen però dovrà abdicare in gara 2 per una caduta e terzo Nicolo Bullega per il secondo podio in quattro gare per una Ducati che con il pilota di Montecchio sembra comunque per il momento aver trovato la quadra per quanto meno giocarsela per le posizioni del podio certo questo Gerter è imbattibile per il momento o quantomeno è molto difficile da battere ma una Ducati di questo tipo può giocarsela con il Van Stralen di turno con il Bastralen di turno con le altre case soprattutto MV e Triumph che sono quelle più depenalizzate appunto dal regolamento che corrono con una farfalla aperta dell'80-85% anziché piena potenza essendo modici l'entrata superiore è una Ducati che può comunque migliorare anche di più visti i prossimi round che ci saranno a venire per quanto riguarda gli altri italiani abbiamo punti anche per Stefano Manzi sesta posizione per lui con il miglior risultato in gara 2 per la Triumph una Triumph che fa molto bene peraltro ad Assen in gara 2 in quinta e sesta posizione con Vomer e lo stesso Manzi Bulega l'abbiamo già detto finisce anche ai piedi del podio in gara 2 ci sono punti per Federico Caricasulo che aveva fatto due grandissime gare ad Assen la seconda purtroppo deve abdicare per una caduta ma nella prima fa quinto ed è un ottimissimo risultato anche se non si dice ottimissimo per la Ducati del team Altea Iari Montella fa dodicesimo e nono per quanto riguarda la gara di Assen Raffaele De Rosa non è quindicesimo con la Ducati del team Orlac punti anche per Leonardo Talcini compagno di squadra di Dominic Gerter che fa decimo e tredicesimo concludiamo la rassegna del Racing Podcast della Superbike con lo campionato di Supersport 300 che vede ancora una volta Alvaro Diaz come leader del campionato un Alvaro Diaz che fa due gare incredibili per certi punti di vista perché partiva ventinovesimo e nella prima finisce undicesimo nella seconda fa secondo ma è un secondo perso letteralmente in volata per due millesimi perché vince il francese Hugo de Cancelis per il quale suona la marseillese secondo appunto Alvaro Diaz e terzo Yuta Ocaia su Kawasaki team MTM la gara 1 invece lo vince il piatta di caso ovvero Victor Stemann che corre anche lui su Kawasaki team MTM pure lui dunque Elfield Helmus suona per il pilota con la carena numero 72 seconda posizione per Samuel Di Sorano che in partenza è uno dei favoriti al titolo e terza posizione per uno degli italiani più competitivi in questo contesto ovvero Mirko Gennai italiani che potevano fare una clamorosa tripletta addirittura prima dell'ultimo giro in Super Sport 300 ma invece devono abdicare perché alla fine Bruno Riace lo stesso Gennai e Gabriele Mastroluca alla fine finiranno quarto quinto e sesto in un volatone di gruppo che vede 15 piloti protagonisti in un macello clamoroso che è la Super Sport 300 che riaprirà l'ostilità a Estoril con appunto un nuovo leader di campionato perché se Alvaro Dias e Mark Garcia condividevano la leadership fino alla gara di Aragon adesso il pilota spagnolo Alvaro Dias ha 8 punti di vantaggio su Mark Garcia che peraltro è un campione del mondo di questa categoria vince nel 2017 questo è il Racing Podcast per quanto riguarda la Superbike spero di riuscire a fare anche il Racing Podcast per quanto riguarda la MotoGP che comunque correrà in questa settimana domenica 1 maggio per quanto riguarda la gara del Campremo di Spagna della MotoGP che dunque arriverà nel Racing Podcast e poi ci sarà spazio anche per gli sport americani perché parleremo nei giorni successivi di NHL e di MLB per appunto i podcast anche sugli sport USA e saluto da parte di Matteo Thorgard ci vediamo a un prossimo video